Circa mille studenti che frequentano le quarte e le quinte classi degli istituti superiori abruzzesi e di altre regioni italiane hanno deciso di vedere da vicino i campus dell'Università d'Annunzio di Chieti-Pescara che dopo due anni di pandemia sono tornati ad ospitare i giovani. Sono stati accolti dalla docente Oriana Trubiani, delegata del rettore Sergio Caputi, alle attività di orientamento di Ateneo e ad alcuni studenti tutor. Nel corso della giornata di orientamento Open Day è stata presentata l'offerta formativa 2022-2023 con tutte le attività dei 14 dipartimenti d'Annunzio negli stand informative e nelle strutture attrezzate dei due campus. Corsi di studio, lezioni, laboratori, incontri e brevi seminari. Da quali aree arrivano gli studenti che hanno aderito e che partecipano all'Open Day odierno? Oltre che studenti abruzzesi, sono studenti che provengono dalla Puglia, Campania, Marche, sono tutte praticamente le regioni limitrofe all'Abruzzo. Cosa chiedono all'Ateneo? All'Ateneo ovviamente gli studenti chiedono le strutture e chiedono di fatto anche degli aiuti durante i percorsi. E noi proprio in linea con le indicazioni ministeriali, quest'anno abbiamo bandito numerose borse di studio per studenti tutor che coadiuveranno gli studenti in difficoltà durante i vari corsi e nei corsi di laurea e saranno coadiuvati essi stessi da figure di psicologi che lavoreranno insieme ai presidenti dei corsi di laurea per evitare gli abbandoni. È importante quello che l'Università d'Annunzio offre come percorso praticamente generale. È possibile vedere studenti e docenti che frequentano i nostri viali dei nostri campus, che si incontrano. Quindi il rapporto umano, oltre al rapporto didattico e scientifico, è una caratteristica ed è una mission della nostra Università.